Lo sportello antibullismo del Comune di Chieti sarà a disposizione della comunità giovanile teatina al civico 176 di via Montegrappa in Contrada San Martino. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l'assessorato alle politiche giovanili del Comune e le associazioni Erga Omnes e Medea, è stato presentato in conferenza stampa dall'assessore alle politiche giovanili Manuel Pantalone e dai presidenti delle associazioni di volontariato coinvolte Francesco Longobardi, presidente di Medea e Pasquale Elia, presidente di Erga Omnes. Un progetto al quale crediamo in maniera forte insieme al nostro sindaco e insieme al Consigliere Ginefra abbiamo dato piena sinergia operativa a due importanti associazioni del nostro territorio, la Erga Omnes e la Medea. Lo abbiamo fatto perché riteniamo che soprattutto in una fase di ripresa post-pandemica sia necessario l'ascolto ma sia necessaria l'aggregazione dei giovani, quella sana aggregazione che abbiamo più volte promosso come assessorato alle politiche giovanili, per esempio attraverso il progetto di Teatroner, per esempio attraverso tutte quelle iniziative che sono volte non soltanto a favorire l'aggregazione giovanile ma soprattutto a diffondere quei valori che per i giovani sono fondamentali nella crescita e nella propria formazione. Lo facciamo ovviamente in questa occasione con uno sportello dell'ascolto che deve servire proprio come prevenzione ad un fenomeno terribile come quello del bullismo e del bullismo che noi vogliamo contrastare con forza. C'è bisogno oggi di ascoltare i giovani, fare in modo che i giovani vengono emozionati, vengono capiti e vengono rilanciati nelle loro idee. Medea ha messo in campo questo progetto Emozioniamoci, è un progetto itinerante come lo sport. Lo sport è uno strumento molto importante per integrazione e inclusione sociale. Oltre a questo vogliamo coinvolgere la povertà genitoriale e quindi dare l'opportunità anche alle tre istituzioni che la famiglia, che il comune e gli associazionismo che insieme possono, e la scuola innanzitutto, che possono insieme contrastare questo fenomeno del bullismo e quindi dare in modo che dare più qualità di vita sui territori. La struttura, l'ex centro sociale San Martino, è ormai dal 2014 sede operativa di Erga Omnes, un'associazione attiva nel territorio su chiede dal 2011 dove consulenti psicologi hanno attivato uno sportello di ascolto dove si dà la possibilità proprio di ascoltare quelle che sono le varie problematiche delle famiglie, dei giovani in generale. All'interno dello sportello d'ascolto è nato adesso quello che è il servizio sul contrasto al bullismo. Da lunedì al sabato si può chiamare il numero di telefono dell'associazione 0871 45 0291 dove la segreteria prenderà appuntamento per l'ascolto che riguarda nello specifico le problematiche nell'aspetto del bullismo.